Lo splendido scenario di Carpegna si riappropria della sua eccellenza enogastronomica con la E maiuscola. Dopo due anni di stop per restrizioni pandemiche, torna la festa del prosciutto di Carpegna, torna la festa della DOP marchigiana che da venerdì 22 a domenica 24 luglio accompagnerà i visitatori in una ricca diciassettesima edizione che spazierà fra ogni declinazione di degustazione del prosciutto. Dalla cena dei tesori a palazzo alla visita agli stabilimenti di produzione fino alla merenda col maxi panino da 50 metri. E poi ancora il moto raduno moto prosciuttata, mercatini, stand, iniziative fra sport e trekking, il tutto accompagnato da concerti serali. Il prosciutto di Carpegna è il nostro fiore all'occhiello sul discorso dei prodotti tipici e sappiamo quanto anche il turismo sia legato all'enogastronomia. È una delle trade-off delle marche, si produce a Carpegna grazie allo splendido microclima che noi abbiamo, a questa maturazione che lo rende molto molto particolare. La festa del prosciutto di Carpegna che si svolge solitamente a luglio, diciamo che celebra questo prodotto e dà anche l'occasione al comune di mettere in mostra le proprie bellezze. Quindi sarà un calendario ricco di eventi che partirà il venerdì 22 luglio con tesori a palazzo. Questa cena gourmet molto molto bella, molto affascinante che si svolge nella cornice del giardino di Palazzo dei Principi e da lì in avanti saranno tutta una serie di eventi che intratterranno i turisti che arriveranno in quel weekend a Carpegna.